Migliora la situazione epidemiologica nel nostro Paese e il tasso di incidenza scende intorno a 70 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Anche l'RT si mantiene ben al di sotto dell'unità e intorno a 0,78. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica stiamo intorno al 19%, quindi ben al di sotto di quella che viene considerata essere la soglia critica. Per quanto riguarda il miglioramento della situazione epidemiologica questo è dovuto soprattutto alle misure che sono state prese nei mesi scorsi ma anche all'effetto che la vaccinazione sta avendo sulla popolazione più anziana. Dato che stiamo andando incontro a un periodo di graduali riaperture è bene comunque che i comportamenti individuali si ispirino alla prudenza.